benvenuto in questa breve esercitazione dove imparerai a realizzare una transizione di tipo glow ossia una glow transition utilizzando l'effetto glow contenuto nella categoria effetti stylized stilizza che come abbiamo visto nelle lezioni precedenti si presta a molteplici funzioni importa in un nuovo progetto le clip mercedes e rally che trovi nella cartella access che è scaricato ad inizio capitolo eccole qui mercedes rally importiamo nel nostro progetto e creiamo una nuova composizione hd tv 720 con framerate di 25 fotogrammi al secondo 1280 per 720 fotogramme dalla durata di 5 secondi nominiamola lo transition ok ecco la nostra composizione e inserisci i primi due secondi e 13 frame della clip rally quindi punto di attacco qui a zero andiamo a due secondi e e 13 punto di attacco e inseriamola nella composizione dopodiché inserisci l'intera clip mercedes nel livello 2 ed ecco che queste sono le due clip sovrapposte perfetto al passaggio da una clip all'altra dovremo creare la nostra transizione inserisci l'effetto glow che trovi nella categoria stilizza nel livello 1 ecco qui come di già l'effetto di default crea una prima un primo risultato anche se non è proprio quello che serve a noi ma ci mostra già la sua proprietà fondamentale ossia quella di rendere le parti più chiare di un'immagine ancora più chiare per creare una sorta di bagliore luminoso nei pixel circostanti andiamo a creare la transizione animando l'effetto negli ultimi 15 fotogrammi del livello 1 ossia quando la polvere si solleva dall'auto creando questa nuvola bianca enfatizziamo questo effetto sottolineato quasi alla perfezione dall'audio del livello 2 per generare la nostra glow transition e quindi andiamo a creare la nostra transizione imposta in questo punto sia due secondi e dodici fotogrammi e quindi andiamo a creare la nostra transizione in questo punto sia la soglia del bagliore a zero vedi che aumenta glow radius portiamolo a 100 e glow intensity enfatizziamolo a 15 ok impostiamo tre fotogrammi per ciascuno dei parametri modificati andiamo a vedere qui nella categoria effetti i nostri fotogrammi chiave portati ora 15 fotogrammi indietro puoi utilizzare shift e il pulsante page su ecco qui ci siamo portati 10 fotogrammi 11 12 13 14 e 15 e qui imposta il valore di soglia del bagliore a cento per cento e l'intensità del bagliore a zero per cento vediamo cosa è accaduto ecco che abbiamo questa sorta di flash di luce questo appunto bagliore che aumenta insieme alla polvere che si solleva e quindi la prima parte della transizione è completa la polvere sollevata dall'auto in corsa emana un bagliore che riempie l'intera inquadratura andiamo ad applicare lo stesso effetto ma invertito a livello 2 e quindi copiamo l'effetto glow inserito nel livello 1 control c e andiamo a livello 2 e clicchiamo control v ora che abbiamo incollato i nostri fotogrammi a chiave selezione primi due fotogrammi chiave del livello 2 quando l'effetto è ancora nullo e portali 15 fotogrammi dopo i tre fotogrammi successivi 10 11 12 13 14 15 perfetto e sposta questi ultimi due fotogrammi precisamente ecco qui questo punto in coincidenza del 3,2 ossia quando l'effetto pieno del livello 1 coincide con l'effetto vuoto nullo del livello 2 praticamente la nostra transizione è fatta vediamo il risultato puoi regolare la distanza tra i fotogrammi chiave per velocizzare o rallentare i punti d'ingresso di uscita della transizione come vedi in questa lezione hai potuto constatare come sia facile conoscendo bene gli effetti le loro proprietà realizzare quello che vuoi in after effects e quindi ti aspetto nella prossima lezione per scoprire nuovi effetti e nuove tecniche per aiutarti a creare fantastici video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.